Buongiorno, buon sabato 2 dicembre. Benvenuti nella nostra rassegna stampa, come ogni mattina leggeremo le prime pagine dei quotidiani di casa nostra, ma anche quelli nazionali e quelli sportivi e poi nella seconda parte entreremo dentro i fogli regionali per vedere quali sono le principali notizie dalla nostra regione. Come di consueto in questa prima parte, spazio alle prime pagine. Allora cominciamo da casa nostra, ovviamente cominciamo dalle prime pagine, dalle quattro edizioni del centro. Partiamo con l'edizione di Pescara e vediamo l'apertura. Il titolo blocco del traffico contro lo smog. Pescara e il comune pronto alle contromisure per ridurre le polveri sottili. A proposito di Pescara, da un paio di giorni è iniziato il dicembre che ci porterà al Capodanno e allora il Capodanno a Pescara sarà con Vinicio Capossela, concerto gratis, la notte del 31 in Piazza Salotto. Rimaniamo su temi un po' più di attualità perché per lo sport oggi alle 15 scende in campo il Pescara contro la Ternana. Ieri conferenza stampa del presidente Sebastiani insieme al tecnico Zdenek Zeman. Il numero uno biancazzurro ha detto Zeman non è in discussione. La vigilia della gara contro la Ternana il presidente del Pescara ha messo a tacere le voci di un possibile cambio in panchina. Oggi alle 15 dunque la gara contro le fere Umbre. Ancora a Pescara il fratello di Jennifer, Jennifer Sterlecchini. Non perdono il killer un anno dopo l'omicidio di Jennifer uccisa al suo ex fidanzato. Parla il fratello Jonathan, nessun perdono per il killer, dice annunciando una manifestazione, il ricordo della 26enne che si terrà questo pomeriggio. Corteo in centro a Pescara. Pestaggio in centro presi due minorenni, sempre per la cronaca. E poi dalle eccellenze della nostra regione, Zonfa con la mia cucina, porto nel mondo i sabori d'Abruzzo. Parla lo chef stellato Aquilano. La cucina può essere un veicolo per far conoscere al mondo il grande potenziale che abbiamo. I colori dell'Abruzzo, la bontà dei sapori autentici. Cambiamo edizione. Andiamo su quella di Chieti Lanciano Vasto. Cambia ovviamente l'apertura. Dormono sul lavoro e vengono licenziati. Chieti a casa due parcheggiatori incastrati da un investigatore privato. La fotonotizia lanciano i terreni confiscati e trasformati in orti urbani. Tra gli assegnatari c'è anche la scuola. E questa è la cerimonia di consegna dei terreni confiscati e trasformati in orti urbani. Entriamo nelle cronache per leggere. I PM di Chieti a Roma. Testa ex Cari Chieti dieci anni sotto esame. Durata un'ora e mezza ieri mattina l'audizione del procuratore capo di Chieti Francesco Testa del PM Giuseppe Falasca in commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario faccia a faccia tra magistrati, deputati e senatori per fare il punto sulle inchieste giudiziarie aperte. Sull'ex Cari Chieti scendiamo a Vasto. False residenze in città, numerose le anomalie controlli della Polizia Municipale di Vasto. A Chieti apre il primo mercato dei coltivatori locali. Andiamo nell'edizione di Teramo. Cambia anche qui il titolo. Muore schiacciato sotto un rullo. Tragedia a Civitella. Operaio di 31 anni. Resta intrappolato nel macchinario. La crisi al comune di Teramo. Corso quasi pronto ma Brucchi sta per cadere. Comune in crisi, 18 consiglieri sono decisi a dimettersi. Nelle cronache a Giulianova i carabinieri scoprono la casa cinese del sesso, scoperta dopo un'indagine durata mesi e caratterizzata da ripetuti appostamenti. Una casa d'appuntamenti gestita da una donna cinese che sfruttava la prostituzione di connazionali anche non più giovani. Scendiamo in basso a Palti, a Teramo e Silvi, scuolabus irregolari. In nove a Giudizio, scuolabus che circolavano senza manutenzione o con le revisioni scadute. Ad Atri. Tre giorni di eventi per il rito dei faugni. Cerimonia nella notte tra il 7 e l'8 dicembre prossimi. Edizione Aquilana con cui chiudiamo le prime pagine del centro. Doppio cratere, iter più veloce. L'Aquila nei risarcimenti ora vale il criterio del danno prevalente. A Tagliacozzo blizza scuola col cane antidroga dei carabinieri. Addirittura vedete i controlli dei carabinieri all'Istituto Argoli di Tagliacozzo. Nelle cronache, l'Aquila, ospedale San Salvatore, nella notte prelievo e trapianto di organi, prelievo multiorgano, la notte scorsa al San Salvatore, reni, corne e bulbi oculari a disposizione della Banca degli Occhi dell'ospedale Aquilano e fegato trapiantato a Roma. A San Benedetto dei Marsi, violentata dal branco, condannati tre minori. Prima l'hanno fatto ubriacare, poi l'hanno stuporata nei pressi di una cava abbandonata. Con queste accuse, tre giovani di San Benedetto sono stati condannati a quattro anni di reclusione. Giovedì a Roccaraso, si apre ovviamente la stagione sciistica, nuove cabinovie, arriva anche il ministro dello sport Luca Lotti. Cambiamo quotidiano, andiamo sul messaggero, ovviamente edizione abruzzese, ex carichieti commissari indagati. L'ufficialità ieri durante l'audizione dei PM nel corso della commissione bicamerale, l'ipotesi di accusa è quella di bancarotta a causa dell'eccessiva svalutazione dei crediti. Il fenomeno che riguarda la cronaca, Pescara cresce l'allarme, baby gang, due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina e lesioni personali, tre studentesse del Marconi denunciate dalla squadra mobile per risse aggravate. Insomma, davvero sta diventando un problema sociale. Andiamo in alto, ritorna la notizia del Capodanno in piazza Pescara con Vinicio Capossela all'Aquila, conservatorio e bagarre sulla sede a Palazzo Carli. E in Serie B, come avete visto, abbiamo letto anche prima, Sebastiani fiducia a Zeman, ma adesso bisogna battere la Ternana. Oggi allo stadio adriatico inizia il rush natalizio decisivo per il Pescara e l'isalde parte dall'inizio, in panchina si rivede il, tra virgolette, vecchio stendardo. Abbiamo letto poco fa dei nuovi impianti sciistici, inaugurazione con il ministro Luca Lotti, che di fatto aprirà la stagione. Il ministro Luca Lotti inaugurerà il 7 dicembre le nuove cabinovie del comprensorio scistico Aremonia-Pizzalto-Montepratello e il nuovo sistema di innevamento programmato, ora il più grande d'Italia, è il terzo d'Europa. Andiamo in provincia di Teramo, a Civitella, tragedia in fabbrica alla Simplast, operaio muore schiacciato, non ha avuto scampo, Stefano Chiodi, 31 anni, di Civitella, del Tronto. Non c'è stato nulla da fare, purtroppo, per lui. E poi, grandi imprese per la ricerca, una pioggia di milioni. La regione utilizzerà i fondi PORFESR, tra i beneficiari anche FATER, Valagro e FCA. Restiamo in provincia di Teramo, con la prima pagina del quotidiano La Città, muore schiacciato da un rullo, Stefano Chiodi, 31enne, tecnico civitellese, stava facendo manutenzione in una ditta del posto. In alto, scuolabus sgangherati, nove rinviati a giudizio, l'inchiesta sul Frat Arcangeli. Ma ovviamente la fotonotizia riguarda quelle che vengono definite lanterne rosse smantellate a casa d'appuntamento, gestita da cinesi a Giulianova. Ieri, anche la visita di Ettore Rosato, del Partito Democratico, a Teramo, ha parlato anche di candidature, ha parlato di Tommaso Ginobble, e ha detto che dipendesse da me, lo ricandiderei. La crisi a Teramo, la compagnia dei 17, ovviamente consigliere, è stata riunita. Ancora politica ad Atri e sfida tra Ferretti e Felicione, si stringe il cerchio attorno al prossimo candidato sindaco, e poi in basso da Teramo, una levata di scudi in difesa del sistema Amazon. Per lo sport, leggiamo in basso, il Teramo che non giocherà questo fine settimana, un diavolo aggressivo per guarire, l'obiettivo è quello di dimenticare il derby perso contro la San Benedettese. Andiamo sulle testate nazionali per vedere le principali notizie e quella più importante di politica internazionale che sta già facendo il giro del mondo è l'ennesimo colpo al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la vicenda del Russia Gate. Un altro colpo a Trump, ci sono le dichiarazioni dell'ex consigliere per la sicurezza Flynn che ammette, sono colpevole o mentito all'FBI e adesso può inchiodare il Presidente, l'ex consigliere per la sicurezza guidato dalla Casa Bianca e chiama in causa anche Kushner. La fotonotizia, ieri il sorteggio dei mondiali a cui l'Italia non ci sarà, il mondiale senza azzurri in Russia, definiti gli otto gironi, campioni sorrisi e lo Tsar per il sorteggio più triste qui è Vladimir Putin insieme a, lo vedete, Pelé e Maradona. In alto, questione Ilva, veti e ricorsi il destino in bilico della fabbrica di Taranto, i sindacati, la fabbrica continui a vivere. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, Russia Gate, Trump ora trema, l'ex consigliere della sicurezza Flynn ammette le bugie all'FBI ed è pronto a testimoniare Kushner, genero del Presidente, avrebbe autorizzato i contatti con gli uomini di Putin. Leggiamo l'attacco del pezzo di Federico Rampini, l'inchiesta su Russia Gate si avvicina un po' di più a Donald Trump e al suo clan familiare, il super procuratore Robert Mueller che conduce le indagini ha incriminato l'ex generale Michael Flynn che fu all'inizio di questa amministrazione massimo responsabile per la sicurezza nazionale. Flynn ha messo la sua colpevolezza per almeno un reato e adesso sta collaborando. Vedremo poi gli sviluppi di quanto accadrà. E poi l'inchiesta Quartogiaro, da San Babilo a Quartogiaro, siamo a Milano, l'onda nera che vuole prendersi Milano. In basso Banca Etruria, spunto un verbale sulla trattativa con Vicenza, Banca Italia non era contro. In basso caso Donghia, sulla sottosegretaria che si è dimessa all'ombra del nipote, assunto nello staff. E poi la Previdenza, emendamento PD per le nomine IMSS, torna in bilico la poltrona del Presidente Tito Boeri. Il Fatto Quotidiano, caso Consip, la vendetta di Del 7, vietata la medaglia d'oro al Noe. Guai a indagare, negato il riconoscimento proposto dal Ministro Galletti. In alto Crack Etruria, le balle del PD e del PM Rossi, non solo Banca Italia, sono tutti coinvolti. Leggiamo. La testimonianza del procuratore di Arezzo serve a Renzi per scaricare tutte le colpe sul governatore Visco, che voleva la confusione con Pop Vicenza. Ma l'ex premier e i boschi centrano. Il tempo. Siamo prevalentemente giornale romano, quindi fatti romani. Il pacco di Natale, feste da depressi. Il comune organizza le celebrazioni più tristi di sempre. Albero anemico, pochi eventi. Caos mercatini. Al palo pure il piano freddo. Beh, certo che dalla foto non è proprio un albero indimenticabile. Ecco, almeno a vederlo così. E poi a centropagina ci mancava solo la bindia ostia. Quarto blitz in quattro giorni sul litorale e martedì arriva Rosi in missione. Il messaggero, edizione nazionale, ovviamente. Trump rischia lo stato d'accusa. Russiagate, l'ex consigliere Flynn, confessa in guai al presidente, spinto a mentire all'FBI. Kushner, dietro i contatti con i russi, la Casa Bianca non coinvolti, ma l'impeachment è sempre più vicino. In alto, l'anticipazione, la riforma dell'Unione Europea, più flessibilità e un fondo anticrisi. Il piano di Juncker, un ministro finanziario, unico bilancio dell'Eurozona. Per lo sport, ovviamente, il messaggero quotidiano capitolino. La Roma riparte facile, 3-1 alla SPAL. Giallorossi in superiorità numerica sin dall'inizio. Dzeko torna al gol. Ma c'è stata anche questa vicenda, ovvero Salvini che ha salutato alcuni giocatori del Napoli, presentandosi proprio nel capologo partenopeo. Salvini cerca voti, carezza al Napoli. I tifosi sono in rivolta. Peraltro c'è stata anche la risposta sul Twitter ufficiale del Napoli Calcio, che poi ha parzialmente smentito il fatto di aver accettato le scuse di Salvini su alcune uscite precedenti del leader della Lega. La stampa, dunque, ci spostiamo proprio in Piemonte. Inchiesta Diritti TV, due bonifici inguaiano Galliani. Operazioni per 50 mila euro effettuate da un intermediario, rintracciati i versamenti del manager dei Diritti TV sui conti esteri della moglie di Galliani, ex numero due della Lega Calcio ed ex AD del Milan. E poi, torniamo negli Stati Uniti, Russia Gate, Flynn coinvolge Trump. L'ex consigliere ha avuto contatti con i russi su pressioni del genero del presidente. Il manifesto, segreti e bugie. ovviamente siamo negli Stati Uniti. Michael Flynn inguaia Donald Trump. L'ex consigliere ammette di aver mentito all'FBI sul Russia Gate. Si dice pronto a collaborare con la procura. La Casa Bianca minimizza, ma secondo indiscrezioni della stampa sarebbe stato The Donald a chiedere a Flynn di contattare i russi. Pensioni. La CGL rilancia dalle piazze. Oggi la protesta contro l'innalzamento, 67 anni dell'età pensionabile. Con la sinistra sarà questa protesta. E poi un rapporto census vita low cost nel paese del rancore. Il mattino. Economia cresce il PIL, ma anche il rancore. Rapporto census. C'è paura sociale, xenofobia e sfiducia nella politica. La ripresa non ferma la fuga del capitale umano. Le grandi aree del sud arretrano rispetto al nord. E a proposito di crescita o recessione del paese anche dal punto di vista demografico, il ministro della salute Lorenzin dice si torni a fare figli o saremo un paese di vecchi. Stati Uniti. Flynn menti all'FBI. Ora trema Trump. Russia Gate. L'ex consigliere confessa. Ma in alto ovviamente anche le questioni che riguardano, visto che siamo sul mattino di Napoli, lo sport. Ieri sera il super match del San Paolo tra Napoli e Juventus vinto dalla squadra di Maximiliano Allegri con un gol dell'ex grande ex Gonzalo Higuain. Un lampo e un muro. Il Napoli si arrende. Gol di Higuain e poi il catenaccio. Gli azzurri sono senza idee. Le pagelle. Reina notte su per così salva la faccia. Il racconto. Il pipita è un gesto che fa solamente male al momento dell'esultanza. Il giornale. Altri soldi agli immigrati. 800 euro per ogni neonato. I giudici. Bonus mamme anche alle straniere. Conti a rischio e per il census. Siamo un paese di poveri e rancorosi. E poi le colpe del PD. Il pezzo di Alessandro Sallusti. Renzi e Banca Etrurria. L'arbitro è cieco. Ma il fallo c'è. Una questione. La diciottenne padovana che era malata di leucemia. Dissero no alla chemio per la figlia. Il giudice li assolve. Erano in buona fede. E poi la confessione di Flynn mentì per lui e Trump trema adesso sul Russiagate. Andiamo avanti e chiudiamo con la verità. Le frasi dello scandalo che hanno salvato il paparino della cocca di Renzi. Il PM dell'inchiesta su Banca Etruria era pagato dal governo. Roberto Rossi davanti alla commissione sui crack non ha indagato sugli intrecci con Veneto o Banca perché non hanno trasmesso le carte. La questione tra banca e politica come vedete ha un grandissimo spazio. C'è anche il pezzo di Maurizio Belpietro, il direttore del quotidiano. La verità, quelle strane coincidenze aretine. A centropagina, sospetto dell'antitrust, appalti consip, tutti truccati. In basso l'Italia del Censis. De giovanita e rancorosa lo stupore del centro studi eppure c'è la ripresa. Cambiamo adesso aspetto perché andiamo sui quotidiani sportivi. Partiamo ovviamente con la gazzetta dello sport, titolo emblematico, Higuain spacca Napoli e l'Inter sogna. Capolavoro di Allegri, leggiamo, che incarta Sarri e rovina il piano della grande fuga. I bianconeri risalgono a meno uno dal Napoli. Domani Senerazzurri battono il Chievo, balzano primi da soli in vetta alla classifica. Scendiamo perché ieri c'è stato, come sapete, anche l'anticipo della Roma contro la Spal. Spal subito in dieci e la formazione ferrarese si è lamentata e non poco. La Roma va sul velluto e ritrova anche i gol di Edin Dzeko. Il nuovo corso del Milan, dall'altra parte, Gattuso riparte dal Sosi a Bonucci e da sei italiani. Il sorteggio del Mondiale. Spagna, c'è CR7, Spagna sorteggiata insieme al Portogallo. Rischio Croazia per l'Argentina. Si comincerà a Mosca il 14 giugno alle 17 con Russia, Arabia Saudita. Insomma, non proprio una partita indimenticabile. Maradona, durante la cerimonia in tv, critica la sua nazionale dicendo che gioca male. Per l'altro c'è stato anche un siparietto con Gary Lineker che gli ha ricordato il tocco di mano dell'86. Il Corriere dello Sport, Pipita, qua la mano. Higuain decide la super sfida in campo. Anche menomato, con un suo gol piega il Napoli e lancia la Juve verso la vetta. L'Argentino risponde ai fischi del San Paolo. Allegri possiamo ancora stupire. Sarri sconfitto dopo nove mesi. Si avvicina anche la Roma che batte la Spal. In basso, Mondiali. Ronaldo, cristiano ovviamente, subito contro la Spagna. Germania, c'è il rischio del Brasile. Sorteggi senza Italia. La Svezia va proprio contro i tedeschi. Per la Serie B, invece, Palermo all'esame in Zaghi. Frosinone col Cesena. Zeman sul filo. Il Pescara, come vedete, rinnova la fiducia al Boemo. Bari in campo, invece, domani. Chiudiamo le prime pagine con tutto sport. La foto di Higuain. Questo è il gesto che poi ha spiegato l'attaccante argentino a essere fatto per cercare in tribuna d'onore il suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. Higuain show. Napoli, dove sei? Nonostante la mano fratturata e i fischi, gli insulti, il Pipita zittisce il San Paolo con un gol strepitoso. La quinta rete alla sua ex squadra Valeoro. La Juve si riporta a meno uno, interrompendo l'imbattibilità del Napoli. Straordinaria prova di forza. Douglas Costa super. La Roma resta in scia, grazie alla vittoria. Sulla Spal. In basso, Sinisa. Siamo in casa Toro. Dalla sveglia, Gli Aic e Belotti. Assiste gol. Oppure andate fuori. Dall'altra parte, sorteggio mondiale. CR7 Spagna. Derby Real. Argentina, che va a finire nel girone più duro. Inter, Madrid, Chiamicardi, ma Andano e Cerinova. 2021 ciclismo. Ecco il piano di Froome per vincere anche il Giro. Oltre vorrebbe fare la coppiata Giro Tour. Con questa prima pagina chiudiamo la prima parte di mattino 6. Adesso le previsioni nel meteo, la pubblicità e poi rientriamo ed entreremo dentro i quotidiani di casa nostra tra poco. Seconda parte di mattino 6. Come detto, entriamo all'interno dei nostri quotidiani partendo dalla pagina di Pescara del centro. Un anno fa l'omicidio di Jennifer Sterlecchini. Jennifer non c'è perdono, il nostro grazie ai pescaresi. Parla Jonathan, il fratello della 26enne uccisa dall'ex fidanzato. 30.000 firme contro lo sconto di pena degli assassini. Oggi il corteo in centro. Queste sono le foto di Jonathan con la sorella che adesso non c'è più e poi questa a destra, la foto di una delle tante manifestazioni per la ragazza uccisa dall'ex fidanzato. In basso, commerciante assolto dall'accusa di omicidio. Non fu responsabile della morte di un cinquantenne mandato via dal locale e caduto sul marciapiede. Cambiamo pagina, rimanendo sempre a Pescara, a pestaggio in centro, presi due baby bulli. Carabiniere arrestano un quindicenne e un sedicenne. Due mesi fa hanno tentato di rapinare dei giovani in Viale Regina Margherita. E poi paura ma nessun ferito, circonvallazione, scontro tra una Panda e una Toyota. Un incidente alle nove sulla circonvallazione di direzione nord tra Via Tirino e l'aeroporto. Una Fiat Panda è finita contro una Toyota a Corolla. Solo tanta paura però, per fortuna, per i conducenti. Al liceo Marconi e Rissa tra studentesse scattano tre denunce. In basso, i detenuti sistemano l'archivio del Tribunale. 5 dicembre sarà firmata una convenzione con il carcere per favorire il reinserimento sociale. Giro di vite su auto e caldaie per ridurre le polveri alte. Siamo a Pescara sempre. Gli assessori civitaresi di Carlo annunciano misure restrittive contro lo smog. In programma anche i blocchi del traffico. Via Sacco è la strada più inquinata. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, è un mistero da sette giorni perché il sito dell'Arta non funziona. E allora, da una settimana, i cittadini non sono più a conoscenza della qualità dell'aria che respirano. Nuovo parcheggio. Da 48 posti in strada comunale Piana. Scendiamo in... cambiamo pagina. Lavori per la City. Restano bloccati. L'accordo è scaduto. Il Comune procede alla risoluzione del contratto. La Società Iniziative Immobiliari non ha rispettato i patti. Ovviamente parliamo della nuova sede della Regione. Il progetto è finito nel mirino dei Cinque Stelle. Un esposto del consigliere regionale Pettinari ha fatto scattare l'inchiesta e l'intervento si è fermato. In basso, via il servizio di bike sharing all'ingresso dell'Università, disponibili 30 mezzi. Via Lemuzzi. I lavori l'8 gennaio. Rinviata dopo le feste. L'apertura del cantiere per la pista ciclabile. L'annuncio dell'assessore civitarese in Commissione Vigilanza. Sarà a Pescara un Natale di solidarietà. Tavola della speranza per poveri e rifugiati. Torna per il terzo anno consecutivo l'iniziativa benefica promossa dalla catena della grande distribuzione d'Espar. Cediamo in basso. Apre la chiesa dei Mormoni, nell'ex autocentro della Polizia. Via del Santuario. Oggi ci sarà l'inaugurazione. Sempre a Pescara, per gli eventi, arrivano le luci d'artista per accendere lo shopping in alto. Oggi l'esordio per la Pescara Pallanuoto ricevuto in comune. Oggi sordi in casa in serie A2. Boccalupo, ovviamente, da domani all'Aurum, apre contatto, mostra le sculture toccando la pietra. Stamane l'inaugurazione mostra Suddante e l'antica Roma. a Montesilvano scoperta casa laboratorio di borse contraffatte. Senegalese sorpreso in centro dalla finanza con un borsone pieno di merce. Nella sua abitazione trovate anche delle macchine per cucire delle etichette e fasulle. Progetto del comune. Studenti sulla sedia a rotelle per capire i disagi dei disabili. Il progetto coinvolge i ragazzi dell'Istituto Troiano Delfico in occasione della giornata mondiale della disabilità. Per l'assessore De Martini, se necessario, un percorso culturale. In basso, Moscufo, oggi e domani, festa con gli zampognari, mercatino dell'artigianato, bottega del gusto e casa di Babbo Natale. A Porto Allegro domani concerto dei ragazzi della nuova scuola di musica. Spostiamo a San Giovanni Teatino, in alto, due giorni di festa per aiutare a Deborah Brandimarte, un'iniziativa per aiutare la ragazza che lotta contro la malattia. A Francavilla, chiesa al foro, firma dal notaio, sancito lo scambio dei terreni con il comune, la nuova parrocchia servirà a 6.500 residenti. Andiamo a Scafa. Sindaci uniti per il distretto, lunedimo municipio, incontro pubblico con i primi cittadini della Val Pescara, Sospiri e Di Matteo. In alto, anche Popoli rientra nel progetto, scuola di arrampicata con la guida alpina di Federico. Ancora, a Penne, festa dell'albero con nonni e bimbi, coinvolti anche alunni della scuola dell'infanzia e poi a Popoli Sport e Legalità, incontro con l'arbitro di Serie A, Gian Paolo Calvarese. Andiamo a Chieti, personale sotto controllo, dormono sul posto di lavoro e vengono licenziati. La società che gestisce i parcheggi a pagamento manda a casa due dipendenti e un investigatore privato li ha sorpresi. Il presidente Marco Tuglio, rigettati i ricorsi dei lavoratori con la loro condotta, hanno intancato il rapporto di fiducia con la Blue Parking. La segnalazione. Ecco la macchina di nessuno. È abbandonata al terminal. Una Fiat Punto vecchio tipo, targata a Viterbo, bianca e coperta da uno strato di polvere, parcheggiata da mesi e mesi. Nel parcheggio coperto del terminal ha anche le gomme sgonfie. Nessuno la reclama. Un mistero tutto teatino. Il contenzioso. Strisce blu. Causa contro il comune. I gestori vanno al Tar. Contestato l'affidamento a Chieti Solidale. Poi in basso apre il mercato degli agricoltori locali. In via Arniense, il primo negozio di campagna amica col diretti con verdure e formaggi. Rigorosamente della zona. Questione Carichietti. Il procuratore ex Carichietti all'esame. Dieci anni di gestione. Testa ascoltato dalla Commissione parlamentare sulle banche a San Macuto. La rivelazione, la svalutazione dei crediti. È stata l'ammazzata finale. Indagheremo risparmiatori beffati e sono pronti anche nuovi ricorsi. A Lanciano, la ASL rimborsi le cure fatte da Lorenzo. Ricordate la storia di Lorenzo Costantini? Purtroppo non c'è più. Il giocatore delle giovanili della Virtus Lanciano, morto a 20 anni. L'azienda sanitaria, la ASL, dunque deve pagare 358 mila euro alla famiglia del giovane morto a causa della leucemia. Lo ha stabilito il giudice del lavoro Cristina Di Stefano che ha condannato l'azienda a rimborsare questa cifra ossia l'80% delle spese per il primo accesso all'ospedale americano. Sentenza confermata peraltro ieri dalla corte d'appello. False residenze a vasto, prime irregolarità, controlli a tappeto della municipale negli appartamenti della Riviera, scoperte parecchie anomalie. All'Aquila, vacanza shock per una ragazza a San Benedetto dei Marsi, turista stuprata dal branco, tre condanne, quattro anni per i tre minorenni accusata da un'itolo americana, fatta ubriacare con la vodka e portata in una cava. E poi ad Avezzano, clienti pericolosi, quest'ora chiude un bar di Avezzano per 15 giorni. Scendiamo in pagina, militare morto in Veneto, il lutto a San Pelino, data dei funerali da fissare, gli amici un ragazzo solare, Giovanni Frigioni, il militare morto in un incidente stradale in Veneto. Andiamo a fondopagina, prelievo e trapianto di organi nella notte, l'Aquila, i reni, i bulbi oculari e il fegato di un marsicano settantenne sono pronti a salvare tre donne. A Teramo, muore a 31 anni schiacciato da un rullo, tragedia del lavoro a Civitella, l'operaio stava facendo manutenzione nell'azienda Simplast, sequestrato il macchinario, il PM, ovviamente dispone l'autopsia, la vittima Stefano Chiodi, Stefano tutto casa e lavoro, è tifoso della squadra locale. La crisi del comune a Teramo, sono pronti a dimettersi 18 consiglieri, crisi in comune, lunedì l'appuntamento per far cadere Brucchi, si dissocia a Milton Di Sabatino, stavolta sembra davvero finita, anche se Tiberi lancia un ultimo appello a Futuro In, possono firmare il documento e poi, se non ci sono i numeri, tutti a casa. A Giulianova, Blitz, nella casa delle schiave del sesso, i carabinieri scoprono ciesi clandestine costretta ad avere rapporti a qualsiasi ora su materassi stesi a terra, è un colpo alla prostituzione, altra cronaca, fermato dalla polstrada in bicicletta, trovato con cocaina e hashish, patteggia la pena, due anni. Eventi, fine settimana di eventi per la notte dei fauni, Atri, dal 7 al 9 dicembre. In basso, morta all'età di 104 anni, la nonnina della Val Vibrata, si sono svolte a colonnella i funerali di Silvia Micozzi, Martinsicuro, meno multe, con il rosso semaforico. Prima di andare, come vedete, alle pagine di sport, che saranno ovviamente poi nell'ultima parte preponderanti, cambiamo quotidiano, andiamo sul messaggero a Pescara, Capodanno con Vinicio Caposela, scanto autore e la star del concerto gratis a Piazza Salotto, Capodanno in De Abruzzi, ha già confermato lui sul web. L'annuncio di Alessandrini Eccuzzi, con un siparetto su Facebook, scatena l'entusiasmo dei fan dell'artista. Polveri sottili, questioni che riguardano un po' più stringenti e allarme, più busdavetta e meno automobili. In basso, il concerto, ricorderete, di Fiorella Mannoia, il concerto della Mannoia, il comune prepara l'inchiesta. Ancora a Pescara, pasta italiana, a scuola si cambia, di Pillo e Colletti, il Movimento 5 Stelle incalzano Cuzzi, la Molisana, addio, nelle menze arriva la Sgambaro, prodotta con grano nazionale. La difesa del dirigente Zuccarini, capitolato rispettato, possibile uscita dal Cheerfood, dalla gestione del servizio. La giornata, HIV e malattie sessuali, mille diagnosi, ma con l'incognita dei casi sommersi. Ancora a Pescara, arresti per il pestaggio al Parco Florida e per la Rissal Marconi, doppie operazioni di polizia e carabinieri impegnati nel contrasto alla violenza giovanile, 5 sotto accusa, la più grande di questi a 19 anni. All'Aquila, nuova sede del Conservatorio, Barattelli, per ora solo caos, l'associazione dei costruttori contraria alla delocalizzazione nel polo culturale. È già stato indetto un bando di gara per il ritorno nel convento di Collemaggio ad aprire all'idea di una soluzione alternativa. È stata la rettrice Paola Inverardi. Ora la parola va al comune. Nel caso Intex, rimaniamo sempre all'Aquila, i ricercatori ancora senza un futuro. questioni che riguardano il terremoto scoppito aprono sportelli psicologici per curare i traumi del post-sisma. In basso, l'inganno si introduce in casa dell'anziana e ruba gioielli per 4.700 euro. e poi questo sarà un sabato diviso tra musica e teatro. Andiamo ad Avezzano, badante precipitata, c'è un indagato, la giovane trovata in fondo alle scale dell'abitazione potrebbe essere stata picchiata e gettata nel vuoto. Positivo il test con il luminol, scoperte tracce di sangue nel mirino un uomo visto poche ore prima in compagnia della vittima. A Carsoli, Berardinetti, ecco come riporterò l'acqua, consigliere regionale che ha trovato i fondi per la soluzione nella piana della carenza irrica, nella piana del Cavaliere. A Sulmona, centro igiene mentale chiuso, sale la rabbia. Ad Avezzano il questore chiude il bar, frequentato dagli stranieri. Generale suicida Guido Conti, non ricorderete la sua vicenda, clonato il telefonino. La procedura adottata dagli inquirenti per ricostruire gli ultimi contatti di Guido Conti. E sempre ad Avezzano, gli appelli bipartisan per salvare il tribunale del centro marsicano. A Chieti, vecchi a Carichieti, per i commissari l'accusa è bancarotta, la rivelazione dei PM testa e falasca durante l'audizione sulla commissione di inchiesta parlamentare, sui crack bancari. E poi, di spalla, dirigente citato, rischio chiusura per la piscina, l'allarme. Parcheggiatori nel mirino, come abbiamo letto anche sul centro, uno dormiva, il collega chiacchierava. E allora vengono entrambi licenziati, siamo a Chieti ovviamente, a Lanciano, orti urbani sulla terra confiscata, consegnati i primi lotti da cortivare alla scuola Rodaria, quattro cittadini al centro d'accoglienza, immigrati, terreni sottratte a chi si è reso responsabile di reati come usura, estorsione, concussione e droga. Rina Junior nel carcere di Vasto, Amato chiede rinforzi a Minniti, iniziativa della parlamentare del Partito Democratico. Giornali venduti in municipio, il paese fa notizia, siamo a Taranta, Peligna, Attollo, truffatore seriale, finisce in carcere, deve scontare quattro anni e cinque mesi a Teramo. Muore schiacciato a 31 anni da un rullo, gravissimo incidente sul lavoro, alla Simplast, la vittima Stefano Chiodi, che effettuava una manutenzione, la procura ha disposto all'autopsia per eventuali responsabilità, urla strazianti prima di morire vicino ai colleghi. L'operaio era impiegato alla Emeg, azienda all'avanguardia, nel settore delle riparazioni. A centro pagina, per i 14 mila euro fantasma non versati, Asl, parte civile contro Franco Rubini, in basso, protesta dei precari nell'incontro con Rosato. Sì, perché ieri c'è stata la visita di Rosato, che è stato anche l'estensore della legge elettorale, che porta il suo cognome, il famoso Rosatellum, non è altro che l'estensione del cognome di Ettore Rosato, che è un po' pensato la legge elettorale, che ha spiegato al PD che bisogna schierare candidati forti. Allora, a proposito delle dichiarazioni di Ettore Rosato, noi le andiamo ad ascoltare. Intanto io credo che questa sia una legge che faciliterà invece il ritorno degli elettori al voto, perché è molto semplice da capire, perché consente con i nomi scritti sulla scheda di sapere chi si vota, chi viene eletto e quindi avere un rapporto diretto tra eletto e cittadinanza. Poi il ritorno ai collegi, così come era nel Mattarellum, è anche questo un elemento di semplicità, un elemento di riconoscibilità, ognuno nel suo territorio, in maniera da essere un rappresentante vero, delle esigenze locali e questo è anche un elemento utile per una politica che sia più vicina all'elettore. Poi sulla rappresentanza di genere abbiamo fatto una battaglia come Partito Democratico, sappiamo che è una battaglia fatta da soli in questo, però giusta, abbiamo in questa legislatura riportato molte donne nelle istituzioni, molte donne in politica. Il nostro è stato il primo governo nella storia della Repubblica italiana ad avere un pari numero di uomini e di donne, abbiamo una donna Presidente della Camera, cosa che non succedeva da tanto tempo con la Presidente Boldrini, insomma c'è bisogno del contributo importante delle donne nelle istituzioni, in politica, non solo per lavorare ma anche per poter decidere. Poi vedremo anche come è stato trattato sul quotidiano della città, come sono state trattate le dichiarazioni di Rosato, anche l'incontro che ha avuto ieri avete visto a Teramo. Continuiamo con il messaggero però, ancora cronaca, banda degli incappucciati, nuovo assalto. In tre con il volto coperto sono entrati nella stazione IP rubando in questo caso sigarette e tagliandi del Grattevinci. Il 21 novembre, sempre all'interno dello stesso distributore, praticarono un foro nel muro, portarono via i soldi della slot, la stazione IP di Giulianova presa di mira dai malviventi. A centropagia donna cinese sfruttava le connazionali costrette a rapporti sessuali in tutti i giorni, le pubblicizzava su un sito internet e le televa anche prigioniere all'interno di una casa, davvero qualcosa di incredibile. A Martinsicuro invece le ruspe sono già a lavoro sul lungomare per contrastare l'emergenza e erosione, iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell'arenile. Dall'altra parte un project financing ad Alba per i lavori al cimitero. Cambiamo quotidiano e rimaniamo proprio in provincia di Teramo, inchiesta Frat Arcangeli, scuola bus sgangherati, nove a processo, sicurezza, manutenzione e affidamento dell'appalto, a giudizio la Frat Arcangeli, l'ex assessore Romanelli e i dirigenti comunali. in basso il processo peculato alla ASL con i soldi dei ticket, i testimoni in aula, parla la dipendente pubblica che ha scoperto l'ammanco di 14 mila euro. politica a Teramo, la compagnia dei 17 è riunita, la crisi in comune, Verna e Marroni per le dimissioni, anche se lunedì almeno in due mancheranno all'appello. Questo è il borsino delle intenzioni dei consiglieri comunali, riassunti in uno schema anche molto comprensibile, anche per far capire ma qual è lo stato delle cose in questo momento? Leggiamo, sono 12 la maggioranza del sindaco, la minoranza firmataria della sfiducia, sempre 12, pronti a dimettersi al segretario 17, 4 non schierati, indisponibili o in dubbio, che sembrano giocatori di calcio, in realtà non è così, dimissioni, per Verna nessun dubbio, Brucchi deve andare a casa. Eccolo qua, la visita di Ettore Rosato ieri a Teramo, dipendesse da me, ricandiderei Ginobili, il capogruppo della Camera del PD, non ha dubbi sull'onorevole Rosetano, ma sarà, dice il territorio, a decidere. Oggi l'open day, il Pascal Comi Forti apre le porte al futuro, entrambe le sedi saranno aperte al pubblico per illustrare i tanti indirizzi di studio offerti dalla scuola in provincia, da Teramo parte la difesa del gruppo Amazon, imprenditore Bacchisi Oledda controcorrente, la parte debole nei contratti, ormai è diventata l'azienda. A Nereto, nuovo indirizzo, solo al piano rosa di Nereto, via libera al corso di grafica e comunicazione, niente da fare per gli istituti Chiuri, Milli Moretti e Alessandrini Marino. La tragedia sul lavoro, muore a 31 anni schiacciato da un rullo, Stefano Chiodi ha perso la vita durante un intervento di manutenzione alla Simplast di Civitella del Tronto. I funerali si svolgeranno domani mattina, prevista per oggi l'autopsia, disposta ovviamente, come accade in questi casi, dal magistrato. Casa Lucirosse, nell'appartamento in centro, ragazzi cinesi costrette da una connazionale, 47enne a prostituirsi con decine di clienti al giorno, la promessa, convinte a venire in Italia come badanti, era invece costretta a prostituirsi, la clientela, studenti, artigiani, commercianti e professionisti frequentavano la Casa Lucirosse. Il blizzi, i carabinieri hanno fatto irruzione trovando la maîtresse e una connazionale impegnata con un cliente. Adesso apriamo la pagina di sport perché siamo quasi in chiusura e ovviamente partiamo con Pescara Ternana, anche questa bella vignetta del presidente Sebastiani con Zeman, Pescara Ternana, però oggi insomma le cose si fanno serie, Sebastiani blinda a Zeman, l'allenatore non si tocca, tra un po' ascolteremo sia Sebastiani che Zeman, ieri in conferenza stampa il presidente dice il boemo non è a rischio, abbiamo un programma da rispettare, messi a tacere le voci su un eventuale cambio in panchina, la squadra è giovane, ha bisogno di tempo, il tecnico incassa la fiducia e spera di essere accontentato a gennaio, siamo troppi ha detto, bisogna sfoltere la rosa, ma è una cosa che aveva detto anche quest'estate Zeman. Il dirigente annuncia l'acquisto del centro sportivo Poggio degli Olivi che però slitta, ci sono gli ultimi dettagli che vanno ancora definiti, ma oggi c'è il campo, il boemo lancia Valzania, in difesa rientra Francesco Zampano, Coulibaly non è al top, tocca l'ex Cesenate, il terzino gioca a destra con Crescenzi, a sinistra 8 assenti, si fa male anche Gans, prima convocazione per Stendardo, allora vediamo quali potrebbero essere le squadre che scenderanno sul terreno di gioco, io vi ricordo questo pomeriggio alle 14.30, l'appuntamento con Andrea Costantini con Diretta Stadio, i suoi ospiti con Paolo Renzetti in diretta, prima, durante e dopo Pescara Ternana per un pomeriggio, tutto bianco-azzurro, 14.30, la partita inizia alle 15, allora vediamo le formazioni, Pescara con Fiorillo tra i pari, ovviamente 4-3, Crescenzi a sinistra, Zampano a destra, Perrotta Forna, Zier, Coppia Centrale, Carraro sarà il playmaker, le due mezziali, Bruckman e Valzania, come detto, Capone, Pettinari e Mancuso, le tre punte, vediamo il 4-2-3-1 di Pocchesi, che è squalificato, allora ci sarà l'allenatore in seconda, Emilio Coraggio in panchina, per la Ternana, Pizzari, giovane di scuola, portiere di grande futuro di scuola Milan, in porta, Valiant e Favalli, sugli esterni, Gasparetto e Signorini centrali, poi Defendi e Paolucci, saranno i due frangiflutti a centrocampo, Carretta e Tiscione, con Tremolada, i tre, alle spalle di Montalto, che è la punta, che ha segnato il gol, che però non è valso la vittoria, settimana scorsa, nel derby contro il Perugia, a proposito di Pescara, andiamo a vedere il messaggero, Pescara, non puoi sbagliare, inizia lo sprint di Natale, che sarà decisivo ai fini della classifica, alle 15 all'Adriatico, arriva la Ternana, Zeman, rinfrancato dal sostegno, non abbiamo ancora la giusta cattiveria, per far male agli avversari, ma ho fiducia, le fere vengono da 5 gare, senza vincere, questa è la situazione degli avversari, i rossoverdi di Pokesci, e l'isalde titolare, il messaggero fa un cambio, vedremo poi chi avrà ragione, dei due quotidiani, il messaggero mette l'isalde con Fornasiere, quindi non per rotta titolare, poi vedremo se sarà effettivamente così, Stendardo va in panchina, prima convocazione per lui, ma Sebastiani conferma la piena fiducia al Boemo, il club sta rilevando il poggio degli olivi, da Peppe De Cecco, e allora, andiamo a vedere e riascoltare, quello che hanno detto ieri, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, e il tecnico bianco-azzurro Zdenek Zeman, vediamo. Ho detto che eravamo tutti sotto esame, e per dire tutti sotto esame, intendevo dire che, quando le cose vanno male, così come ho detto al Ministero l'altro giorno, che eravamo soli, che purtroppo qui si apre il giornale, si legge, 4 sberle a Zeman, no, 4 sberle al Pescara, così come quando il Pescara fa 4 gol, qualcuno ha fatto il Pescara 4 gol, né Zeman che fa 4 gol, o né Zeman che piglia 4 gol. La posizione dell'allenatore non è in discussione? Ma nel modo più assoluto, e sono qua per questo, io non è che sono venuto per raccontare le chiacchiere. Ieri mi raccontavano, che c'era uno stricione fuori dalla Camera di Commercio, che diceva che lo stadio non interessa, se non si sa che fine si fa. Io veramente rimango basito rispetto a queste cose qua, perché se c'è una cosa che si sa, è che fine si fa. Probabilmente qualcuno non vuole sentire quell'orecchio, quindi quello che si fa a Pescara è ben chiaro a tutti. Oggi pomeriggio firmo il contratto per l'acquisto di questo centro, quindi che fine si fa? Si sa e come. Probabilmente qualcuno o qualcun altro che spinge qualcuno, non lo vuole sapere o non lo vuole capire. Sul mercato il mio problema più grosso è che siamo troppi. Lavorare con 31 giocatore per me è difficile, è normale che se si riesce a lavorare con un numero più ristretto, con i ruoli coperti, con doppioni, si può lavorare meglio. Adesso a gennaio sicuramente ci aspetta un'altra situazione che ci consentirà di sfoltire un altro poco questa rosa. Magari ci consentirà di andare a prendere uno o due elementi che ci possono aiutare a fare qualcosa in più. Quello sicuramente. Purtroppo non abbiamo la convinzione di giocare per far male e concentrazione per non farsi male. E quello non si compra in farmacia. Io continuo a dire che ho fatto tutta la mia carriera basata sul lavoro. Continuo a dire che l'Arenaldos in 31 è difficile, anche per la partita. Nel senso che giocano, gli altri non giocano, la concentrazione è poi difficile da trovare nei giocatori. Però dobbiamo cercare di, nonostante questi problemi, di applicarsi di più e lavorare di più convinti che stiamo facendo campionato importante per noi. La Ternana ha cambiato tanti schieramenti, tanti moduli, anche durante la partita. forse è più a seconda del risultato che c'è in campo. Però, a prescindere che a tre giocano pochi, non so, non posso dare consigli a pochi esci come mi deve affrontare. a prescindere che a tre a prescindere che a tre